Qui siamo nel vigneto Giardino nelle rive di Colbertaldo giusto? Sì, siamo qui. E' qui che l'agricoltura viene definita eroica per la pendenza che hanno questi vigneti? Per la pendenza che hanno questi vigneti e soprattutto perché tutte le lavorazioni vengono fatte a mano. Piantare una vite, piantare un palo, piantare un palo di legno o di corten, entrambi materiali idoni a queste colline si deve fare a mano ed ecco perché è eroica. Le ore di lavoro a dettaro che si fanno su queste rive sono circa 600-700 a mano, mentre il lavoro fatto a mano nel campo in pianura è di circa 120-130 ore. Quindi parliamo di 5 volte tanto? 5 volte tanto, ma noi crediamo in questa viticoltura eroica per la qualità che ne esce e perché crediamo che nel futuro venga preservato anche il suo valore. C'è un dislivello di 40-50 metri? Sì, se noi ci avviciniamo un po' a questo posto vediamo che la collina oltre che molto ripida, ha origine poi il fondo valle collinare che comunque è a 160 metri sul mare, mentre dove siamo noi qui siamo a 220 circa, per arrivare in cima alla collina dove arriviamo a 250. In questa prima collina delle coordonate dove poi troviamo vigneti anche a 300-350 metri. però...